Benvenuto a Venezia, e so che sei qui per il premio Kineo come migliore attore internazionale nell'ambito delle serie. Che emozioni hai provato e come ci si sente a stare qui in questa cornice veneziana dove c'è il cuore pulsante del cinema? Sono molto orgogliosa e onorata del premio sia per me sia per il mio paese. Anche prima sono venuta a Venezia e ho conosciuto tantissime persone con una bellissima energia. La vostra energia e l'atmosfera di questa città è meravigliosa. Sento la vostra energia, la vostra aura e questa per me è la cosa più emozionante di tutte. Grazie. Sei molto amato qua in Italia ma in realtà dappertutto. Volevo chiederti quali sono i tuoi progetti futuri? Ieri è ormai passato, non c'è più. Oggi siamo qui e la cosa più importante è che siamo qui e viviamo queste emozioni e vedremo cosa porterà il futuro. Grazie mille. Ho finito. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.